un saluto a tutti e benvenuti in questo quarto video tutorial su gamecaster in questo capitolo andremo ad imparare come si settano i sound alert e soprattutto come si possono personalizzare come sempre io vi invito a passare nel canale a lasciare un bel like ai video a seguire il canale a condividere i video tutorial se ovviamente vi sono d'aiuto e detto questo iniziamo subito la prima cosa da fare come sempre è quella di selezionare la scena interessata andiamo quindi sulla scena su edit e apriamo il menu la prima cosa da fare andare su add a widget andare sulla voce alert e poi selezionare gli alert che si vogliono inserire in questo capitolo andremo ad inserire tre sound alert in particolare quello dei follower quindi quando qualcuno inizia a seguirci sia su facebook che su twitch lost che funziona solo su twitch quindi quando qualcuno nel proprio canale ci sta ospitando e poi il ride ovvero quando qualcuno dalla propria diretta entra nel nostro canale con altre persone porta altri spettatori nel nostro canale quindi andiamo subito ad occuparci del sound alert dei follower quindi lo selezioniamo andiamo su add widget e si apre il nostro menu la prima cosa da fare è andare sulla destra della barra delle proprietà e selezionare il servizio ovvero il social con il quale vogliamo che il sound alert funzioni ovviamente possiamo scegliere twitch facebook oppure entrambi ovviamente vi accorgerete del servizio selezionato guardando l'icona che diventerà bianca io in questo caso andrò a selezionare la funzione prettamente per twitch subito sotto abbiamo altri due parametri duration e di lei il primo serve per decidere la durata a video di quello che è il sound alert quindi le scritte e eventualmente anche un'animazione quindi si può mettere a 0 a 1 come un secondo come 15 secondi ovviamente voi in base alla durata dell'immagine che volete che resti a video potrete ridurre aumentare la durata ovviamente possono essere inserite sia immagine statiche quindi delle foto ma anche le gif animate e dato che io inserirò una gif animata che poi vedrete che funziona il loop io lascerò dieci secondi e il di lei ovvero il ritardo con il quale il nostro game caster farà partire il sound alert nel momento in cui viene selezionato o meglio viene avviene ecco il follow da parte di un utente poi sotto abbiamo altre due funzioni animation in e animation out queste funzioni servono per animare l'ingresso nel caso di animation in del blocco quindi scritta con l'immagine o una gif e di animation out per quanto riguarda la fase di uscita quindi andiamo a selezionare la voce in questo caso andrà a selezionare bounce in e poi ovviamente viene visualizzata nel riquadro l'animazione quindi voi potete anche scorrere e inserire l'animazione che più vi piace stessa cosa animation out in questo caso bounce out clicchiamo su select e scendiamo sotto andiamo nella voce text to speak andiamo su voice e selezioniamo italiano italian questa funzione ci permetterà di far leggere mediante un processore vocale inserito in game caster un messaggio video poi andiamo nella sezione audio qui e qui possiamo scegliere gli effetti musicali gli effetti audio da inserire prima della lettura quindi prima che la voce di lettura ci vada a leggere ciò che è uscito scritto sul video quindi andiamo qui stessa cosa di prima abbiamo due opzioni così come abbiamo visto per le immagini possiamo decidere di caricare un file audio e utilizzarlo la procedura ovviamente è stata già spiegata nel precedente capitolo che vi invito a guardare quindi in breve se vogliamo caricare un file utilizziamo questa voce qui o in alternativa andiamo su browse o browse nel caso in cui noi abbiamo già caricato delle immagini o degli audio se vogliamo scegliere i file che abbiamo caricato noi andiamo su my audio attenzione però i file non devono durare più di 3 secondi altrimenti l'effetto sonoro andrà ad accavallarsi con la voce che andrà a leggere il tutto a monitor quindi in questo caso io vado a selezionare system audio e poi vado ad ascoltarmi degli effetti e vediamo se ce n'è qualcuno che mi piace una volta deciso quale suono deve essere inserito lo selezioniamo e poi andiamo su select e a questo punto clicchiamo su save in questo momento abbiamo settato soltanto la parte grafica ed audio adesso andiamo a preparare la parte scritta quindi andiamo sulla barra a sinistra e andiamo su first line a questo punto ci troviamo le impostazioni riquadro qui a destra andiamo a modificare la scritta attenzione però non andate a modificare quella scritta dove c'è la chiocciola perché altrimenti non funzionerà correttamente e quindi quando partirà il sound alert non ci dirà il nome dell'utente che ha iniziato a seguirci quindi andiamo a modificare la scritta e scriviamo ha iniziato a seguire il canale la seconda riga ovviamente ah qui adesso dobbiamo riadattare perché allora proviamo a diminuire in questo caso i caratteri e andiamo ad adattare la scritta thanks for following questo direi di lasciarla anche così allora ovviamente come abbiamo visto nel secondo capitolo è possibile cambiare anche i font e le misure e quindi andrò a modificare giusto una per farvi vedere che si modifica fatto questo abbiamo temporaneamente abbiamo settato la parte grafica ma se vogliamo aggiungere un'immagine statica o un'immagine gif animata cosa dobbiamo fare stessa procedura add widget image add widget come abbiamo fatto per i file audio lo facciamo anche per le immagini in questo caso ovviamente se vi dovesse capitare questo fenomeno che sparisce per un attimo la schermata ricliccate sul menu e vi appare di nuovo il tutto ecco qui adesso prendiamo la nostra bella tazzina di caffè e la posizioniamo dove vogliamo ovviamente io la vado a posizionare qui verso il centro a questo punto sulla barra a destra nella parte advanced abbiamo l'opzione che ci può permettere di rendere l'immagine semi trasparente o eventualmente di lasciarla al 100% io ad esempio la vado a settare all'80% e clicco su save a questo punto se vogliamo far sì che questa immagine parta insieme a sound alert dei followers non dobbiamo fare altro che selezionare l'immagine e trascinarla verso il basso sulla cartella follower alert verrà ovviamente evidenziata in grigio lasciandola viene inserita nella cartella quindi arrivati a questo punto clicchiamo su save e facciamo il test yellow shape ha iniziato a seguire il canale grazie per il follow ottimo missione compiuta adesso andiamo avanti la procedura ovviamente è sempre la stessa una volta fatto ciò dovremmo ripetere la procedura per raggiungere gli altri sound alert quindi andiamo sempre su add widget alert in questo caso host quindi quando ci verranno quando verremo ospitati selezioniamo questa voce e da widget e temporaneamente chiudiamo questa qui andiamo a fare la stessa procedura attiviamo il servizio rimettiamo questa volta a 15 secondi perché utilizzerò un'altra immagine sempre una gif animazione ne mettiamo un'altra mettiamo bouncing down quest'altra bounce out down andiamo a fare tutto come prima quindi italian selezioniamo il file audio quindi l'abbiamo precaricato ecco selezioniamo quest'altra una volta fatto ciò salviamo e abbiamo rifatto il settaggio per la parte diciamo così grafica adesso andiamo a modificare le scritte quindi andiamo a modificare scriviamo sta ospitando la diretta andiamo a fare save come sempre vi ricordo c'è un capitolo dedicato alla parte dell'inserimento delle scritte su gamecaster che vi invito ad andare a guardare seconda linea e qui facciamo la stessa cosa quindi at viewers dirà 10 10 persone 10 sono entrati nel canale come si dice in napoletano quindi 10 persone 10 visualizzatori quello che sia sono entrati nel canale entra entrati nel canale benvenuti e qui abbiamo completato quella che è la parte dei messaggi scritti allora qui però io direi di scrivere 247 amici amici ecco sono sono entrati nel canale ospiti ospiti mettiamo ospiti quello che volete mettiamo ospiti vediamo un po' va bene facciamo amici quello che volete iscrivere lo scrivete qui stessa cosa adesso andiamo a caricare l'altro file d'immagine per inserirlo nell'animazione stessa cosa image andiamo su add widget brush my image e quando troviamo l'immagine che ci interessa lo andiamo a selezionare eccola qua adesso temporaneamente abilitiamo questo per metterlo grossomodo a centro lo richiediamo temporaneamente adesso un'oltre fatto ciò prendiamo l'immagine e la trasciniamo nella cartella a questo punto abbiamo completato il lavoro facciamo clicchiamo su save e andiamo a fare subito il test e vediamo se siamo stati fortunati ecco in questo caso c'è stato un errore quindi andiamo a modificare la dicitura infatti amici amici ecco qua adesso se vogliamo essere sicuri di aver fatto la cosa giusta ritorniamo su test e verifichiamo delicate con sta ospitando la diretta cinque amici sono entrati nel canale benvenuti mi sono accorto di un errore e quindi vado a modificare sta ospitando e verifichiamo per un'ultima volta sta ospitando la diretta cinque amici sono entrati nel canale benvenuti perfetto adesso andiamo ad inserire l'ultimo parametro che è quello del ride ovvero quando qualcuno entra nella nostra diretta e praticamente ci porta altri utenti ma che stavano partecipando alla sua quindi andiamo su add widget alert ride alert e add widget stessa cosa di prima chiudiamo qui regoliamo tutti i parametri attiviamo l'animazione di twitch 15 secondi mettiamo un altro effetto questo qua bounce left in but left out prima questo qui quindi italy ecco qua audio browse system audio prendiamo questa qua allora abbiamo risettato i parametri quindi abbiamo detto deve funzionare con twitch la durata video dell'animazione e delle scritte devono essere di 15 secondi il ritardo da quando viene messo da quando viene effettuato il ride scusate devono passare 5 secondi animazione abbiamo visto qual è gli abbiamo detto questi messaggi me li devi leggere nella lingua italiana e suonami questo suono qua quando stai per avvisarmi del del messaggio clicchiamo su save e andiamo a modificare l'ultima parte andiamo qui e scriviamo ha effettuato un ride seconda linea andiamo a modificare la decidura e scriviamo 24 ospiti entrati nella diretta benvenuti poi ovviamente ognuno scriverà il messaggio che più gli piace inseriamo l'immagine come abbiamo fatto per la funzione precedente quindi stessa cosa ovviamente cambiamo il carattere mettiamo acme ecco qua se vogliamo caricare un'altra immagine un'altra gif andiamo su add a widget image add a widget browse perché già l'abbiamo caricata e adesso mettiamo questa qua a questo punto attiviamo questo solo per posizionare il file l'immagine a questo punto possiamo anche abilitare tutto ovviamente perché abbiamo terminato a questo punto attenzione come sempre se vogliamo far sì che l'immagine venga aperta nel momento in cui qualcuno effettua il ride nel nostro canale non dobbiamo fare altro che prendere l'immagine trascinarla sulla cartella e l'abbiamo inserita a questo punto andiamo a fare il test e vediamo se siamo riusciti in questa grande grande impresa salviamo ovviamente 5 ospiti entrati nella diretta benvenuti perfetto eventualmente possiamo anche abbassare il volume dell'effetto audio quindi lo abbassiamo perché si sentiva poco e rifacciamo il test ovviamente questo dura un po' di più ecco perché all'inizio del tutorial vi ho detto che è preferibile inserire un suono che non superi ovviamente i tre secondi bene questo video tutorial termina qui se questo video vi è stato d'aiuto come sempre vi invito a lasciare un bel like al video a lasciare un bel commento a condividerlo con i vostri amici e se non siete iscritti al canale youtube e su twitch come sempre io vi invito a farlo io sono fabrizio vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e naturalmente ci vediamo al prossimo video tutorial ciao a tutti ciao a tutti